Quando torno a casa con la pagella Mamma già in mano una grossa padella Come ti è andata? Posso vederla Se hai insufficienze da qui esci in barella Le imploro risparmia, mi giuro andrò meglio Lei fissa con strana espressione il coltello Le dico guardiamo l'aspetto migliore Ancora il mio ottimo in religione Mamma Lo zio Shadow ha detto Cosa significa? Il mio senso di riccio sente l'avvicinarsi di un pericolo Ma non capisco che pericolo sia Ora amore di mamma non pronunciare Mai P Quella brutta parola Capito? Ok mamma Gli esami di stato mi fanno paura dopo cinque anni di atroce tortura Mi trovo in un'aula con sei professori che dicono parlami un po' del manzoni Studio da un anno per tutte le prove ma non mi ricordo nemmeno il mio nome Non dormo ai due occhi che ormai sembro un panda Fatemi uscire mi basta al 60 Oh stiloso Emi ti ho detto di smetterla di giocare con i miei vestiti Questo gioco è stato bello finché è durato Oh stiloso Sonic anche tu ma che cavolo Bello Bambini non anche voi che figura mi farete fare con i vostri genitori Oh no Squisito Tutti quanti fuori del mio guardaroba Ci sentiamo su whatsapp? Non c'ho whatsapp Facebook Non c'ho Facebook Messenger Non c'ho Messenger Instagram Eh non c'ho Instagram Scusa mandavili? Nel meraviglioso mondo dei cazzi miei Un chili dog molto abbondante per piacere Aspetta Sonic Tua madre non ti ha appena detto che non si mangia prima di cena? Beh occhio non vede e cuore non duole Così dicono gli umani I miei sensi di madre dicono che mio figlio sta mangiando qualcosa fuori posto? Ehi Sonic Cos'è quella cosa nel cielo? Oh no È la ciabatta più spinosa di mia madre Qui sulla luna sono al sicuro non mi prenderà BOOM Aio Oddio sto morendo Bevi una pozione Me lo sento So che questa è la mia fine Bevi questa cazzo di pozione Dio alla mia famiglia che le voglio bene Ma bevi questa pozione basta Perché non hai bevuto la pozione? Vector caro Già che posso recuperare cream dal corso di musica Potresti fermarti a fare la spesa? La spesa? Certo nessun problema Cosa ti serve? Acqua Le merendine di cream per la scuola I succhi di frutta Pane Farina E zucchero Ah e anche un pacco di sale e della frutta di stagione Ah e anche del burro Dato che quello che ho è sparito Di nuovo E del burro Ok tutto chiaro Ecco qui la spesa Miss Vanilla Ho recuperato le merendine alla crema Il pacco di sale Qualche frutta di stagione E soprattutto il burro Vector Vanilla Hai almeno recuperato cream dal corso di musica? Ehm Ecco cosa avevo dimenticato Cheese Secondo te zio Vector Hai ritardo come al solito? Ciao ciao Sì lo penso anch'io Allora Sonic Prendi appunti che qui c'è tanto da ricordare Panta Allora Questa è la lavastoviglie Ci vanno i piatti e i bicchieri sporchi L'aspirapolvere si usa per le pulizie in casa E NON Per giocare Nella lavatrice ci vanno i panni sporchi Ci aggiungi il detersivo e l'accendi seguendo i comandi richiesti Allora fin qui tutto chiaro? Chiarissimo Mi sono pure fatto un disegnino per dimostrarlo TADAAA Aio Di nuovo TADAAA Aio 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 Grazie a tutti